La ceramica, non solo come rivestimento dei pavimenti, ma come involucro, è molto importante in un edificio. All'interno di Made Expo ricopre un'importanza particolare, occupa anche uno spazio particolare. Sì, certo. Per noi Made, innanzitutto, voglio pronunciare che è stata una vetrina quest'anno, è stata la nostra prima partecipazione. Bene, confermo quello che sta dicendo. Abbiamo voluto partecipare all'esposizione per dimostrare che anche noi facciamo un sistema integrato nel rivestimento di tutta la casa e ci è sembrato essere una vetrina più vicina agli operatori del settore, più che magari altre fiere un pochino più internazionali, ma un pochino più allargati come genere. Made ci sembrava molto più specifica e per questo abbiamo deciso di partecipare nel 2013.